In un mondo dove manca l'informazione, dove c'è tanti tanti proposti sullo stesso sguardo del mondo, è straordinario portare 40-50 film che sempre sono film di conoscenza e la scoperta di una realtà che non si conosce e questo è democratizzare il mondo delle immagini anche, è una apertura grande sul mondo, grandi explosivi e la utilizzazione di una media di 4.000 tonnellate di cianuro al anno. È una mineria molto devastatrice, utilizza 100 milioni di litri di acqua potabile al giorno e questo tipo di mineria che si ha sviluppato in l'Argentina a partire della metà del anni 90, oggi è molto contestata nel mio paese. Pensate che la cordillera di Sandes guarda la sexta reserva di metalli del planeta e allora tutti i grandi corporazioni sono lì. La popolazione delle province dove si sviluppa questa mineria sono solo in piedi di protesta. In sette province si avevano già proibito questo tipo di mineria. Tutto questo movimento di protestazione delle persone, delle assemblee, arrivato a questo gran triunfo. In novembre del 2008, che parla il film, ha stato votato alla unanimità nel Parlamento la legge di protezione dei ghiacciari. La legge di protezione dei ghiacciari. La Presidente l'aveva vettato. Allora abbiamo ritornato con questa legge, con alcuni piccoli cambi, però profondizzando la legge. E questo anno la Camera dei Diputati, due mesi fa, abbiamo votato afirmativamente la legge. E ha passato al Senato. Il Senato, tradizionalmente, molto accionario, perché sono quasi tuttili e provincias, una ligata al governo e altre ligata a le province minieras. Las corporazioni minieras hanno fatto una pressione fortissima queste ultime settimane al Senato per impedire la votazione affermativa della legge. Però la mobilizzazione è stata molto più grande. Quando io ho partito dall'Argentina, giovedì, una settimana fa, mancavano quattro voti per avere la maggioranza. È stata una mobilizzazione molto intensa. Senatore per senatore. Hanno partecipato tutto tipo di organizzazioni, artistas, musici. Il giorno dell'impartedì, fino a ieri, è stata una guardia permanente nella piazza del Congresso, con spettacolo, con musica, con tutto, reclamando il voto del Senato. E ieri sera o oggi alle quattro della mattina si è votato affermativamente. il soggetto è sempre lo stesso. Evidentemente la lotta politica è la lotta entre diversi conflitti. Quando si tratta di una lotta anche di potere, perché questo tipo di mineria, il sfruttamento, il denaro che porta dal paese è gigantesco. Allora la forza delle corporazioni è enorme per fare una sorta di contaminazioni sociali, acquistare tutto il mondo. Però la cosa importante è che la cultura della sconfitta, che è l'Argentina, viene dai anni 90. Come dire? La cultura della sconfitta è questo senso profondo del neoliberalismo, di che il mondo non lo possiamo cambiare. Guarda, sono molto belli le tue idee, però è impossibile cambiare questo. Questo è molto profondo, questo è un sentimento profondo. Però piano 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 la realtà in Argentina mostra un'altra cosa. Io penso, ritorno su questo, perché anche i compagni nostri non credevano la settimana scorsa quando io ho partito. Che era possibile arrivare a conquistare queste sette voti che non mancavano. Però la pressione culturale, il movimento, tutto questo è molto forte. È molto forte, è un momento di cambio nel paese. Non possiamo vedere la realtà sempre come una massa unica, incambiabile. Questo è falso. Questo è falso. Però senza lavoro è impossibile. L'abbiamo inviato questo film a ogni senatore. alcuni lo hanno rifiutato, però dopo hanno chiamato, perché l'altro le aveva raccontato che era buono. hanno chiamato per averlo. Però no, non soltanto per inviare il film. Abbiamo fatto la scelta di organizzare gruppi entre quattro e cinque personaggi di prestigio, referenti sociali, intellettuali, artisti, per andare a parlare con ogni senatore. molto forte. Molto forte. Questo è stato un movimento molto forte. È vero che alcuni soggetti come questi possibilita perché l'acqua o la difesa dell'acqua è soprattutto di forze politiche e di tutta l'ideologia. Finalmente il governo aveva lasciato la libertà di accion a tutti i componenti del Parlamento. Però come le corporazioni mineras... La Argentina funzionano due grandi partiti politici che fanno l'alternanza dopo quasi un secolo. Lo radicale è il partito giustizialista, peronista. Le due senza i contenuti di ribellion o democratici che avevano prima. Le due trasformate in due grandi maquinze di professionisti politici. Due grandi maquinze in difesa dei interessi del neocolonialismo e di tutto questo. Allora è interessante, interessante perché non è esattamente così. C'è la possibilità di dividere all'interno di queste forze e di aprire una porta importante perché se ieri la votazione avrebbe stato negativa era una sconfitta pesante perché reaffirma il sentimento di negatività. No, è impossibile, è impossibile. È impossibile andare contro la volontà delle corporazioni. È impossibile andare contro il potere. Però io penso che questo movimento si sviluppa in maniera internazionale. Appunto, la Comunità europea ha fatto una risoluzione in maggio scorso raccomandando a tutte le nazioni integranti della comunità non raccomandare questo tipo di mineria. Le domande a questi paesi, le domande a questi paesi, le domande a queste corporazioni non espandere e non sviluppare questo tipo di mineria. Ok. Ecco, è già operativo quel trattato in base al quale la Barrigold può disporre un servitorio sostanzialmente indipendente? Perché il trattato, questo trattato di complementazione chileno-argentino è del anno fine del 97. Tutta questa cosa possiamo cambiarla. Tutta questa legislazione è possibile cambiarla. Noi abbiamo messo una quantità enorme di progetti nella Cámara dei Diputati in questo senso. e si sviluppa un grosso movimento con altre forze politiche. Abbiamo preso la bandiera di questa tematica, però non abbiamo nessun senatore. Ieri 38 voti favorabili.